E' notte alta e sono sveglio Buonasera, buonanotte cari amici di Raiuno Melania Giglio, attrice, cantante, anche cantante, vero Melania? Sì, sì Ospite questa notte a sottovoce Attrice, cantante, attrice soprattutto di teatro Sì, assolutamente Per scelta? Ma non per scelta perché è stata una specie di vortice che mi ha travolta da subito e poi non mi ha più lasciato andare Perché l'incontro con Ronconi è stato un incontro determinante Sì, 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 è stato un incontro molto forte, molto bello, molto importante Io ero al liceo e non pensavo minimamente al teatro Un liceo importante in Piemonte Sì, un liceo classico molto importante, molto prestigioso Però comunque, insomma, stiamo parlando sempre di una realtà di provincia dove non avevo occasione di vivere una realtà teatrale così stimolante Quindi io al teatro non ci pensavo proprio Pensavo che avrei fatto il giurista Ero già determinata a iscrivermi a legge Però considerato che facevo parte di una classe un po' vivace Un po' indisciplinata Il mio professore di italiano era disperato Poiché non lo seguivamo molto E per farci studiare l'Orlando Furioso ci fece vedere in una piccola sala proiezione L'Orlando Furioso diretto da Luca Ronconi E io vidi la grandissima Mariangela Melato che recitava Olimpia nell'Orlando Furioso di Ronconi Ed ebbi una specie di folle sentimento, folle idea Per cui dissi, io questa cosa credo di poterla fare E da allora è cominciato un percorso E da allora non ho più smesso Luca Ronconi che ci ha lasciato proprio qualche giorno fa È stato il suo maestro, la sua guida Guida professionale, anche umana e spirituale o no? Ma io credo che un grande maestro sia qualcuno che In qualche modo ti spinge a conoscere te stesso In un modo non convenzionale Il maestro è chi ti obbliga a superare i tuoi limiti E chi ti obbliga a conoscerti sempre più profondamente Quindi in questo senso un maestro Non credo si possa definire maestro se non ti stimola Anche dal punto di vista umano e spirituale Due genitori, operai Papà operaio per un certo periodo Sua mamma anche, poi suo papà ha fatto altri lavori Cosa significa essere figlia di operai e fare poi quello che fa? Significa intanto avere un grande orgoglio Avere una grande dignità Perché decidere di essere artista Quando non si viene da una famiglia di artisti Quando quindi non si hanno neanche tutte le protezioni E le strutture familiari Che magari famiglie più appunto Costituite da artisti o da intellettuali ti possono dare È una scelta che secondo me Ha una forza in più Ha una marcia in più Tu sei artista perché lo vuoi essere Non hai chi ti para le spalle Se la carriera va male E quindi è una scelta che ha Un aspetto di tigna in più Ma può essere questo un vantaggio o uno svantaggio? Nel mio caso è stato un vantaggio Assolutamente Nel mio caso è stato un vantaggio Perché io non ero protetta Quindi se avessi fallito Avrei dovuto ammettere di aver fallito Tornarmene a casa in Piemonte Con le pive nel sacco E rimettermi a studiare all'università Ma dopo averla lasciata Insomma quindi Perché lei ha frequentato una scuola Per diventare attrice Sì io ho frequentato la scuola di Luca Ronconi Perché dopo la vicenda dell'Orlando Furioso Che le raccontavo prima Un giorno aprì la stampa Il giornale di Torino E Lessi che Ronconi faceva le audizioni Per la sua scuola di teatro Che era la scuola del teatro stabile di Torino Era il 1993 Io ero una studentessa di legge E dissi sì io vado Vado lo vado a fare Era stata una cosa completamente folle Ho fatto un'audizione Di cui ancora mi vergogno profondamente Perché portai la Maria Stuarda di Schiller Ma non avevo Insomma non ero ancora una teatrante appunto Quindi non avevo una spalla E quindi costrinsi la mia povera mamma Ad accompagnarmi al provino Recitando Elisabetta di Inghilterra Una Maria Stuarda di Schiller Però fu una cosa che mi portò fortuna Perché Ronconi la trovò molto divertente Rise molto per questa cosa Si sta cimentando in questi giorni Enrico IV? Sì in questi giorni siamo in scena Al teatro Parioli di Roma Con Enrico IV di Luigi Pilandello Per la regia e l'interpretazione di Franco Branciaroli Un bellissimo spettacolo Che spero tutti vedranno Insieme a Franco Branciaroli Lei si può considerare un'attrice impegnata? Non lo so Queste etichette Non lo so Se mi posso considerare un'attrice impegnata Spero di essere un'attrice onesta Questo sì Questo mi piacerebbe essere I testi che porta in scena Cominciare da una guida come Luca Ronconi Ad un compagno di scena come Franco Branciaroli Andrebbero per quanto definizione In un certo senso O no? Eh sì Però ecco Vede È una definizione Che non rende totalmente giustizia Al mondo che la prosa rappresenta Almeno Ecco perché Leva stretta insomma Come definizione Un po' sì Un po' sì Perché in realtà appunto Ronconi è stato un grande maestro Un grande innovatore Un grande scienziato del teatro Però era anche Eh La persona più divertente Che io abbia mai conosciuto Era anche una persona Straordinariamente spiritosa Straordinariamente Eh vitale Ecco E io credo che Eh Fare teatro oggi sia questo Sia Eh Portare in scena Una vitalità E un'onestà intellettuale Però ecco La parola impegnato Forse dà un po' La sensazione di qualcosa di noioso Invece Insomma Credo che sia tutto Molto più vitale Contenta di aver scelto poi Quello che fa ovviamente E non la giurista Come diceva poc'anzi Eh Sì Direi di sì Mh Non Non si sa mai A volte A volte Penso che Eh Sia possibile Che Esistano effettivamente Delle realtà Parallele Per cui magari In un universo parallelo Sono una giurista Non lo so In questo universo Qui e ora Ho scelto questo Melania Lei Melania È un nome particolare Melania Da dove arriva questo nome? E' un nome di Grazie.